Oggi ricordiamo un anno di attività in memoria di Antonio Ciccarelli con il progetto che è nato ormai insieme al gruppo di amici di Antonio, quello delle piazze del cuore. Abbiamo deciso di dare un contributo concreto alla città anche di un anno alla tragica morte di un giovane concittadino salernitano che qualora avessero avuto soccorsi tempestivi forse sarebbe ancora qui tra di noi, appunto Antonio. Noi installiamo defibrillatori nelle piazze per far avere la possibilità di intervento in caso di arresto cardiaco o in caso di pericolo nel giro di 5 minuti ad agglomerati urbani di più di 30.000 persone che possono utilizzare questo strumento, un defibrillatore pubblico automatico che può salvare vite umane. Un miracolo organizzativo perché fatto totalmente in autofinanziamento, infatti noi oggi presentiamo il nuovo quadrangolare di dicembre, un evento sportivo calcistico con il quale raccogliamo i fondi che poi ci permettono di installare questi defibrillatori che sono di utilizzo pubblico, che sono installati in luoghi principali della città. Ricordiamo che abbiamo già reso cardioprotetta la piazza di Torrione, alle spalle della chiesa Santa Maria di Martires, abbiamo reso cardioprotetta anche la piazza San Francesco dove abbiamo installato il secondo defibrillatore e andiamo a installare per la terza piazza nei rioni collinari un altro strumento di prevenzione formando anche il quartiere perché noi facciamo anche poi avere gratuitamente dei corsi di formazione al primo soccorso, all'uso del defibrillatore, ad esercenti e residenti dei quartieri che andiamo a rendere cardioprotetti. Insomma, un'iniziativa bella, un miracolo organizzativo perché fatto senza chiedere nessun contributo pubblico quindi Salerno può freggiarsi di avere nuove generazioni che hanno voglia di fare e danno azioni concrete per il territorio.